ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video di funghi natura valtellina si va avanti con la serie conoscere i funghi questo è un fungo molto importante vale a presentarvi della famiglia dei boleti appunto al boletus satanas che è uno dei pochi esemplari tossici di questa famiglia quindi mi raccomando state molto attenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche qua scorreranno sicuramente delle immagini quindi mi raccomando fate molta attenzione quando andate nel bosco perché comunque una specie tossica non mortale ribadisco non mortale però mi raccomando non prendetela che vi fa solo male comunque provoca comunque dei danni importanti al nostro organismo allora vado a presentare un po di caratteristiche il cappello va dai 5 ai 25 ma che poi può arrivare anche a 30 40 centimetri è carnoso sodo emisferico convesso poi appianato quando arriva alla crescita quando cresce del tutto diciamo il margine da involuto ad appianato ma sempre eccedente la cuticola è molto asciutta da biancastra color beige rosato o bruno olivastra e non vira al tocco la cuticola ovviamente l'immenoforo è formato da tubuli liberi lunghi separabili gialli giallo verdastri azzurroni invece quando si va al taglio i pori sono fini e rotondi giallastri o arancio rossastri sfumati di blu al tatto il gambo va dai 3 12 per i 2 10 centimetri robusto carnoso ingrossato alla base giallo all'apice rosso teno al centro giallo rosato sul fondo manipolato assume sfumature blu astre ricoperto da un fine reticolo con colore poi rosso sangue allora la carne soda negli esemplari giovani biancastra giallina e importante al taglio vi vira debolmente su toni blu astri quindi a contatto con l'ossigeno l'odore è grato disgustoso a maturità sapore molto dolce non vuol dire niente appunto sapore dolce perché comunque un esemplare tossico l'ecologia allora è un simbionte fruttifica a gruppi di pochi esemplari in boschi xerotermofili di latifoglie è comunque poco comune quindi è difficile che voi lo trovate lo troviate e fruttifica dall'estate all'autunno fateci sapere qua sotto nei commenti se l'avete già trovato avete già incontrato specie simili o comunque proprio magari vi siete rivolte un ispettorato micologico fateci sapere qua sotto nei commenti appunto come vi dicevo tra le note una specie tossica in causa disturbi gastrointestinali costanti entro quattro ore dal suo consumo quindi comunque causa mal di pancia causerà diarrea e molti altri sintomi gastrointestinali quindi mi raccomando non cucinatelo non mangiatelo soprattutto e non ne raccoglietelo quindi mi raccomando ah ecco non non spaccatelo perché comunque è punto importante dell'ecologia del bosco così come tutte le altre specie velenose tossiche mi raccomando lasciatele sempre in vita però non raccoglietelo ovviamente e detto questo io vi posso posso concludere qui la mia presentazione vi invito a lasciare mi piace iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto condividere questo video con tutti i vostri amici iscrivervi a seguirci su instagram il tag è funghi natura valtellina vi auguro una buona giornata e ci sentiamo nel prossimo video ciao a tutti